Ed è? Ed è? Che fai mo? Che fai mo? Stai calmo, non agitate, state calmo, vado io a diacolare con l'Eregion, da che mondo è mondo il diacolo con gli Elfi? E sembra servita a qualche cosa, no? Stai a vedere. Ehi Elfi di Eregion, venite fuori, so qui per diacolare, so Adar, il re degli orchi. Sì, stavolta siete fortunati, non sono venuto per metà a fare fuoco il vostro bel villaggio, non sono venuto per rade via suolo, sto a cercare Sauron, basta che mi fate cercare un attimo dentro al castello, magari troviamo pure una bella forgia, ci mettiamo a forgia qualcosa, potremmo forgia, che so, anello, potremmo forgia spada, lancia, arco, ascia, arco, ascia. K hitsamo qua, chiediamo a Sauron, ga lo schpiniamo tutto insieme, fa a tutti uno in dentro un' atomo? Z cotton! Z cotton! Z cotton! Iniezione, non so l'ora, driftandotho cos'bordario, mettendo a mater, bello insieme! Lo faccio vedere.